Area di novità all'Istituto Fossombroni di Arezzo. L'azienda pubblica di servizi alla persona da oggi offre agli anziani ospitati nella struttura il nuovo percorso multisensoriale che rinnova le tecniche di assistenza alla persona da parte dell'operatore. Vorremmo diventare un centro di riferimento nazionale proprio per l'implementazione di queste tecniche di assistenza non convenzionali, un centro di formazione di queste tecniche, un centro dove si determinano ricerche scientifiche e dove si divulgano poi i risultati di queste elaborazioni. Ma non finiscono qui le novità. Domani, sabato 1 giugno, l'azienda apre le sue porte per la festa di primavera con l'obiettivo di far conoscere alla cittadinanza iniziative e modus operandi della casa di riposo. Ci sarà un mercatino con i prodotti confezionati dagli ospiti della struttura e del centro di urno in collaborazione con i nostri operatori. Poi nel pomeriggio ci sarà la musica, ovviamente che non potrà mancare, un rinfresco e l'intervento dei clown che verranno a dare ancora più di allegria. L'ASP Fossombroni mira adesso a creare un percorso di assistenza che porti gli ospiti all'esterno, con iniziative ed eventi che stimolino i loro gusti e le loro passioni. In modo particolare a breve ci sarà un'uscita a Castello Tesino, per il secondo anno andremo a partecipare all'Olimpia dell'Anziane con 10 partecipanti e successivamente nel mese di settembre pensiamo di portarli al mare.